È vergognoso che dal 2015 il comune di Fano non abbia fatto tutto il possibile per evitare quello che sta accadendo. Il tempo è scaduto, vogliamo certezze sull'inizio di quest'ultima scogliera tra il porto e la spiaggia di Sassonia. I consiglieri della Lega Fano chiedono risposte alla giunta serie accusata di pressapochismo. La mareggiata di questi giorni, ha spiegato la Lega, ha fatto tornare a galla tutte le inefficienze di questa amministrazione comunale che da sette anni sta malprogrammando gli interventi. Guarda, guarda il campo da calcetto. Il danno è causato dal posizionamento parziale non completo delle scogliere che compromette, oltre alla spiaggia di Bagnicarlo, anche la passeggiata dell'Isippo. Infatti le onde corrodono le scogliere sottostanti poste a protezione per non parlare delle onde che arrivano fino allo stabilimento della Nucopromo. Questa situazione è gravissima e pericolosa, hanno detto, va sistemata con urgenza prima che sia troppo tardi. Con questa interrogazione chiediamo una programmazione di tutto il lungomare fanese, perché quello che si verifica qui ai Bagnicarlo si verifica anche ai Bagnialda. Non c'è né un progetto, in quel caso addirittura preliminare, consegnato a Regione. Quindi chiediamo che il Comune faccia chiarezza su tutto il lungomare fanese e qui che ci siano date certe sia di inizio sia di fine lavori. I lavori devono iniziare il primo luglio, ancora al 25 di novembre non sono iniziate. A rischio ci sono più di 50 persone che lavorano in queste attività economiche qui a ridosso della spiaggia dell'Isippo e la spiaggia dell'Isippo che è un'eccellenza della nostra città, quindi è un vero e proprio danno di immagine alla città di Fano, che non possiamo tollerare. La Regione Marchi ha ricordato Sir Filippi, presidente della Commissione Ambiente e Territorio. Ha investito e sta investendo oltre 5 milioni di euro per proteggere il litorale fanese, ma l'amministrazione comunale è lente e sbadata. Ad esempio, una volta ha inviato una pecca ad un indirizzo sbagliato, un'altra volta ha tardato a inviarla perdendo il finanziamento. Si ponga fine a questa agonia il prima possibile, hanno giunto i consiglieri, e si diano le risposte che i fanesi si aspettano, altrimenti è meglio che qualcuno abbia il coraggio di staccare la spina a questa amministrazione che fa danni da tutte le parti. Sì, come capogruppo della Lega ho chiesto al presidente Carla Cecchetelli di poter inserire all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale, che si terrà il 29 di novembre, l'interrogazione protocollata proprio per avere delle risposte su quando verranno ultimate le scogliere di Sassonia. L'assessorato di competenze è stato immobile su questo argomento, progettati i lavori appaltati, non seguiti. Le aziende si sono sentite libere di fare assolutamente quello che volevano, di iniziare i lavori per poi abbandonarli, per poi riprenderli, e quindi noi chiediamo ufficialmente all'amministrazione comunale di porre fine a questo modo di fare, di iniziare i lavori e di concluderli nel più breve tempo possibile, perché stiamo parlando di una zona di Fano che caratterizza Fano. Se voi chiedete dove siamo a qualsiasi concittadino fanese, vi risponde che Bagni Carlo è uguale al mare di Fano, e vale per loro come vale per tutti noi. Noi dobbiamo difendere questo territorio e lo dobbiamo fare assolutamente dando concretezza, iniziando i lavori e finendoli nei termini dovuti. Ritardi e incertezze hanno aggravato i danni arrecati a questo stabilimento gestito da Matteo Renzi, che lunedì avrà un incontro con l'assessore Fanesi e Osi Confartigianato. Qui, ha raccontato in conferenza stampa, siamo passati da 11.700 metri quadrati di concessione a 3.700. Dalle 11 file di ombrelloni iniziali, la scorsa estate, siamo passati a 6 e ora 2. Impossibile così riaprire lo stabilimento, il mare si è mangiato oltre 90 metri di spiaggia, e durante l'ultima mareggiata, giunto Renzi, l'acqua è arrivata persino dentro le piscine. Ormai il mare ci ha chiarato quello che sarà il 2023. Lo sanno tutti, lo sapevo anche l'amministrazione, tant'è vero che si era prodigata nel dirci che avrebbero fatto le scogliere, come dicevano prima, giugno, luglio, agosto. Invece ci ritroviamo qua di nuovo, come negli ultimi 5 anni, a parlare delle stesse cose con il mare che ha preso possesso nel frattempo di altri 20-25 metri di profondità. Un altro anno è impossibile aprire, questo è giusto saperlo, perché poi sarà un comunicato che, mancate le scogliere, dovremmo dare già a dicembre o a gennaio, sia ai nostri clienti, che alle nostre buste paga, che ai nostri fornitori, quindi è un po' un pezzettino di città che comunque è interessata anche a questo pezzo di storia, perché anche noi siamo sempre stata un'attività, sempre partecipe anche a tutto quello che riguardava il turismo fanese, molto vicino a tutte le amministrazioni, molto vicino proprio alle persone, sempre collaborativi, ancora lo continuiamo a fare malgrado tutto, e questo non mi sembra il modo giusto di venirci incontro e comunque di collaborare a una problematica grossa come questa. e noi siamo arrivati. Guarda!